benvenuti ragazzi in questo nuovo video di minecraft e questo sarà il secondo episodio ho avuto in mente di fare tipo un deposito delle cose sotterraneo e adesso ho aggiornato minecraft c'è pure il granito e le altre pietre le porte di ferro eccetera vi faccio vedere porta di betulla, porta di avete, porta della giugla, porta di acacia, porta di quercia scura, porta di ferro vabbè poi c'è pure la botola di ferro e pure il tempio sottomarino qua ci sono gli animali qua c'è il grano questa sarà la futura stanza del mio cavallo che ho cercato di imprigionarlo qua poi non ci sono più novità andiamo a continuare il deposito le ciotoli per terra che belli vediamo vediamo se ho dei bastoni su dei bastoni no andiamo legno ce ne basta pure ce ne basta pure ecco andiamo andiamo verso casa facciamoci una piccozza di ferro vediamo se trovo del granito cerco di fare un deposito abbastanza grande no del carbone benissimo prendiamo il carbone mmm quanto carbone ho vediamo 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 che è sopra la casa di fare un corridoio che porta a un mini castello c'è un Creeper Creepa Creepa Creeper Creepa oh c'è uno scheletro è morto uno scheletro Creeper Creepa Meno male vieni non si muove dai oh un trofeo mettiamo a posto la spada l'arco mettiamo il carbone lo cicciottoli metto a posto la piccola di ferro non c'è più spazio cosa faccio? faccio una cosa strana non capisco più ecco mi sono fatto una bottona di ferro no 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 si però adesso ho bisogno di una leva 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 va bene qua qua oh ecco così così mi sento sicuro con una torcia come esco adesso? ma vabbè rompiamo ho sporcato solo ho sprecato solo del ferro come si fa? faccio una leva la leva la botola di ferro speriamo più di non sprecare il ferro la botola di ferro qua dove posso mettere? si dove posso mettere la torcia? eh la leva mi fa mettere la leva mi fa mettere la leva che schifo che schifo vedi ma allora devo lasciare aperto c'è anche i cantini prendo così questo è un gioco qua qua mi faccio qua che ve l'ho messo qua 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 scusate per la lentezza che che ho usato scusate per la lentezza che ho avuto per rompere la volta di ferro di ferro ho intenzione di farlo un po' un ticello un ticello un ticello e qua finisce il video Ciao 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 Ciao